Si è svolta l'ultimo venerdì di aprire la tradizionale cavalcata degli angeli al santuario della Madonna incoronata con devozione, tradizione e venerazione. Tantissima gente ha partecipato nel pomeriggio di ieri alla tradizionale cavalcata legata alla venerazione della Madonna Nera. Una delle manifestazioni popolari più sentite del territorio che rievoca scene religiose a bordo di carri trainati da mezzi agricoli. Uno degli appuntamenti cardine in occasione del 1023esimo anniversario dell'apparizione della Madonna Nera. 26 carri hanno sfilato per ben tre volte attorno al santuario come da tradizione. A mezzanotte poi sono partiti fedeli da tutta la provincia di Foggia e c'erano anche alcuni pellegrini da altre zone d'Italia.